Siamo in Commissione Bilancio e Finanze al Senato, domani la manovra sarà in aula, si sta discutendo gli emendamenti, sono 180, però il PD non ne presenta nessuno, ma presenta degli ordini del giorno, di cosa si tratta? Vogliamo sottolineare in modo particolare alcuni punti che possono ulteriormente migliorare la manovra o comunque essere di impegno per i prossimi provvedimenti, c'è ancora da fare qualcosa sulle pensioni in modo particolare per i lavoratori precoci, non c'è dubbio che è stato fatto un passo in avanti molto importante dal punto di vista dell'equità alla Camera, era tanto che c'è un minore gettito sulla spesa pensionistica di 5 miliardi per dire che i cambiamenti imposti o proposti alla Camera dal PD in particolare hanno modificato nel senso dell'equità in modo consistente la manovra. Poi c'è la sollecitazione sull'area delle liberalizzazioni, ci sono ancora troppi mercati chiusi e protetti, banche, assicurazioni, gas, energia, poste, trasporti, ecco non dobbiamo fermarci solo a settori di piccoli operatori, diciamo come è stato fatto con il commercio, bisogna guardare a questi interessi più rilevanti, c'è il problema di accelerare i pagamenti della pubblica amministrazione, le imprese stanno soffrendo contemporaneamente per la riduzione del credito da parte delle banche ma anche per il fatto che c'è un allungamento dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni, questo è un fattore depressivo dell'economia molto grave. Si va verso il voto di fiducia anche qui al Senato? Penso di sì, l'impegno è di dare un segnale immediato dell'approvazione, è evidente che non ci sarebbero i tempi di una terza lettura alla Camera o se anche ci fossero sarebbe un segnale negativo, questo è il punto di arrivo di questa manovra, naturalmente non è l'ultimo atto del governo Monti, anzi ne devono seguire molti altri. Grazie.